Se abbiamo posto e cominciamo la serata perché sono 9 e 20 e i temi sono importanti, intanto grazie a tutti, siamo tanti e questo è di conforto per chi capisce in un certo modo, io sono Alessandro Molinari del Comitato Nuovese Notar del Tanto Valico, il mio compito questa sera è studiamente quello di presentarvi ed attori, questa serata è stata organizzata dal Comitato Nuovese Notar del Tanto Valico e il taglio che vogliamo dare è un pochettino tecnico per entrare un po' nel merito dell'opera e spiegare tutte le ragioni, sono davvero tante, di quest'opera che noi teniamo assolutamente sbagliata e alla quale vogliamo appoggiare. Sono qui con noi e vi ringraziamo Stefano Lenzi, responsabile nazionale di WVP Italia, tra altre cose anche il merito di essere stato il promotore dell'esposto che nel 98 ha portato al blocco del cartiere del Tanto Valico. Abbiamo Carlo Giorno del Comitato Nuovese Notar del Tanto Valico, tra i fondatori dell'unico Notar in Italia e Mario Cavagna, il Presidente Bonatore Piemonte che è colui che ha elaborato quel documento bellissimo di 150 punti per essere contrari alla Tanto. Poi abbiamo Davide Baio del Comitato Nuovese Notar del Tanto Valico che relazionerà il Presidente Bonatore Piemonte di Milo Cavagna. Io mi fermo qui e lascio subito la parola a Stefano Valenzi per aprire la serata.